Pronti per cucinare una nuova ricetta di imperdibile, quella che oggi ci preparerà, ci illustrerà, Chef Ferio ti voglio salutare. Ciao Meri, buongiorno a te Meri, oggi un bel primo piatto, con pochi ingredienti ma quelli giusti, allora abbiamo gli asparagi, lo specco a fiammiferi, la cipolla di tropea che non può mai mancare, perché le troviamo fresche, il basilico e la grana padana grattugiato, pochissimi ingredienti, come me li abbini, sicuro che facciamo un primo piatto di quelli di là, allora olio extravergine, sempre per incominciare, ci vuole la padella e l'olio, per incominciare, altrimenti non si va da nessuna parte, prendiamo la nostra cipolla di tropea, che ora ti dico un'altra cosa, il verde, vedi questi qua, io lo cestino, no, invece no, la risbollenta si raffredda, si infarina e si frigge, è come aperitivo, come sfizio, vedi, quindi cucina di Chef Ferio, non si getta via nulla, 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 nella mente di Chef Ferio è sempre una grande fonte di ispirazione, ma sicuramente, ma perché ho avuto la fortuna di lavorare con chef vecchio stampo, dove il recupero la faceva da padrone, no, esatto, quindi all'epoca, perché la brava massaia, dice sempre mamma, è quella che non butta via niente, che riesce, anzi con il poco, a dare vita ad un piatto molto ricco e creativo ed è quello che noi attraverso Chef Ferio cerchiamo di insegnarvi, perché molte volte il recupero non significa prendere quello che si doveva gettare o che non è buono, ma significa avere estre e fantasia in cucina, sicuramente, quindi anche la cucina del recupero fa bene, fa bene a noi e fa bene alla tasca, no? Sì, e all'economia, all'amministrazione di famiglia. Quindi, prendiamo i nostri asparagi già sbollentati, già precotti, Meri, della linea Mariù. Della linea Mariù e viva la linea Mariù! Gli mettiamo. E viva anche Chef Ferio, perché attraverso te si cucina davvero in breve tempo. Ecco, quindi non perdendo di vista il gusto, non perdendo di vista la creatività e non perdendo di vista i passaggi, quello che adesso Chef Ferio ci sta illustrando. Ecco, l'altro passaggio, lasciamo imbiondire un po' la nostra cipolla di tropea, che è dolcissima quando è fresca. Tra l'altro si sente questo profumo dolce, perché ecco, le particelle salgono in cucina. E aggiungiamo i nostri fiammiferi di speck, lasciamo rosolare un po' la rettina. E vorrei che voi notaste, attraverso poi il supporto della nostra regista Giada De Gregorio, quanto Chef Ferio tenga il taglio di ogni singolo ingrediente. Perché nulla è casuale. Il taglio della cipolletta fresca in realtà replica e simula quello del fiammifero di speck. Sì, 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 ma se non può piacere a qualcuno o a qualche bimbo, si può usare anche la cipolla tritata tranquillamente. Allora Mary, guarda, lo speck è bello rosolato e andiamo a inserire i nostri asparagi e le puntine. E le puntine. Semplice, semplice, semplice. Caliamo, caliamo, questa è pasta fresca, necessita di 6 minuti di cottura. E a me piace questo tagliolino, Mary, il perché. Perché è bella lunga, lunga, guarda, guarda, facciamo vedere com'è lunga. Eh, vedi, hai replicato come se fosse veramente fiammifero. È lunga, 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 lunga. Il taglio della cipolla. Mi piace questa pasta perché nell'impiattamento riusciamo a fare un bel colombantino. Ma voi avete mai, ecco, creato questo abbinamento e realizzarlo come primo piatto? Perché abbinamento degli asparagi, come i fiammiferi di speck e la cipolla, ma soprattutto con un tipo di pasta che è particolare, è una pasta fresca. Pasta fresca all'uovo, Mary. Ed è uno spaghettone lungo. Ed è lunga, sono tagliolini. Tagliolini. Che è il solito, è il usuale. Esatto, perché i tagliolini non li utilizziamo soprattutto in brodo. I tagliolini in brodo, con la bolognese. Oppure la bolognese. Invece in questo caso abbiamo un nuovo tipo di menù che potrete ripetere nelle vostre case. Sì, chef. Molte volte può sembrare banale anche il sugo che prepariamo, il condimento. Però abbinata a una pasta del genere, che non usiamo spesso a abbinare, può diventare sfizioso e particolare il nostro piatto, no? Quindi vi invito, anche con i vostri piatti classici, che replichiamo sempre a casa, ma di fare la prova di cambiare anche il formato di pasta, no? Perché quando è voluto, cioè nel momento in cui, è questo lo volevo chiederti. Diventa tutto un altro piatto. Cambia il sapore, chef. Mary, ci siamo aiutati con un po' d'acqua di cottura questa volta. Perché? Perché abbiamo bisogno un po' di sugo, di condimento in più per insaporire la pasta, no? E poi per finire di sfaldare gli asparagi che abbiamo tagliato piccolini. Esatto, gli asparagi, ho visto che tu li tagliati proprio piccoli, piccoli, piccoli. E una parte hai lasciato le puntine. Che vanno a rilasciare quella cremina. È quello che vuoi raggiungere come obiettivo. E le abbiamo lasciate belle intere per far vedere che, ecco, stiamo usando asparagi importanti, eh, mia asparagi. Allora, Mary, questi necessitano di sei minuti di cottura. Noi a tre, quattro minuti facciamo il passaggio dalla casseruola alla padella. Perfetto. Ecco qua, via. Quindi è proprio necessario questo passaggio perché secondo me c'è bisogno di un po' di amido che rilasci la pasta. Continuiamo la nostra cottura in padella, Mary. Ecco qui, vedi? Non gettiamo subito l'acqua di cottura della pasta perché se necessita... Di altra aggiunta di liquidi, noi la... Esatto. Noi pronti. La prenderemo proprio da lì. E siamo pronti, vedi? Come in questo caso serve a noi. E usarla con parsimonia, anche il sale. Perché? Nel sugo che abbiamo preparato non abbiamo inserito sale. Hai notato? Ho notato. Perché abbiamo aggiunto lo speck. Questo è un piatto particolare, Chef. Molto, molto carino. È un piatto, ecco, anche un po' sfiziosetto. Sì, Mary. È facile, davvero, nel senso si pensa e si fa. Bravissimo. Tutti i miei piatti sono pensati e realizzati. Ma come devi dire, se questo è un piatto che in realtà utilizzi, che ecco, non c'è nemmeno in carta, però su richiesta al ristorante Mangiano Sul Serio, so che ricevi tanti imprenditori, perché per il CIS noi ci troviamo con il ristorante Mangiano Sul Serio, a Nola, a Nola e due passi dal CIS, zona industriale, ecco, questo centro industriale del sud. Quindi tanti imprenditori che vengono di là e dicono, no, voglio qualcosa di spezioso e magari... Vogliono mangiare un primo piatto leggero e d'impatto, no? E di lì si partono le ispirazioni. Sì, questo è un piatto, diciamo, poco importante alla fine. E quell'assaggio che tu magari... Sembra poco importante, però ha il suo perché. Quindi continuiamo con la cottura della pasta risottata. Tra l'altro davvero possiamo avere gli asparagi, questi qua che abbiamo comprato da MD nel freezer e poi abbiamo comunque il formaggio, è un prodotto che abbiamo sempre, i fiammiferi di speck idem. Se non abbiamo lo speck, abbiamo la pancetta, se abbiamo qualche po' di prosciutto crudo. Esatto. Sai, rimane sempre quella fettina di crudo che nessuno mangia. Quindi è quel piatto in più che anche la sera si può fare, magari, sai, mi è venuto qualcosa, desiderio di mangiare qualcosa, sì. Cosa vuoi mangiare stasera? Ho preparato niente. Però? Però tu ti ricordi gli asparagi che hai nel freezer e prepari un piatto del genere. Si va sulla pagina di mattina 9, si ripesca questa ricetta per aiutarsi magari con i passaggi per essere più sicuri. Ancora un po' di acqua di cottura della pasta. Quindi ricondividete questo momento di diretta, noi siamo contestualmente anche in diretta streaming. Tre minuti, casseruola, tre minuti in padella, Mary. Quindi, perché così facendo, uno, cuociamo, finiamo la cottura della pasta, due, il sapore dell'asparago. Si impregna la pasta, quindi assorbe anche la pasta, assorbe il sapore dell'asparago e abbiamo ancora un sapore più deciso. Perché se non facciamo questa operazione, sai, gli ingredienti si vanno a dividere, non sono belli amalgamati. Mentre facendo in questo modo, rilasciando il sapore degli asparagi e la pasta necessaria ancora di acqua di cottura, assorbe tutto il sapore dello specchio e degli asparagi. Mary, a questo punto spegniamo. Sembrerò ripetitiva tutti i giorni perché ogni volta dico, no, ma è davvero c'è un buon odore invitante che ti, per l'appunto, ti invita a... Ma guarda che crema. A presentare, ecco... È molto invitante. A ripetere questo piatto in casa. Questo è il classico piatto. Ecco, possiamo vedere la cremina perché è venuta poi fuori questa cremina di cui parlavi prima, Chef. Vedi, vedi. Eh, c'è la cremina. Questo è il classico piatto da mangiare direttamente in padella, Mary. Questo è un piatto che va mangiato caldo, vero Chef? Direttamente in padella, vado a com'invitante. Non deve freddarsi. A questo punto, il bello di questa pasta è il turbante, guarda. Come fanno i grandi chef, non io. Vedi, vedi. Tu sei personalissimo, quindi non hai bisogno di dire come i grandi chef. Come fa Chef Elio, punto. Il nostro chef di mattina 9. I nostri tagliolini. Wow. Ma, Chef, io non sono così bravo, però. Probabilmente il nostro pubblico da casa lo è. Esercitatevi tutte le volte perché provando, 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 si riescono ad ottenere risultati straordinari. Oppure andando a recuperare la nostra ricetta. Esatto. Ed è semplice, ancora più semplice. È ancora più semplice. Mary, che dirti? Che dirti? Anche questa volta ci sono riuscito. Anche questa volta sei stato bravissimo, ma ti non mi hai detto che sei bravissimo, Chef? Ma secondo me è la tua presenza che mi fa diventare bravo. Ma io sono contenta se sia così, però non credo, perché il tuo ristorante Mangiando Sul Serio ottene davvero tanti consensi di pubblico e anche di critica. Chef? Sei sempre di parte tu. Aduliamo buon appetito a tutti e mandateci le foto di questo piatto. Esatto, sì. Vediamo come è venuto. Intanto la foto sarà tra pochissimo presente sulla nostra story Instagram, quindi andatela a guardare la ricetta del giorno. Complimenti a Chef Ferio per questo primo piatto presentatoci quest'oggi, ma domani ce ne presenteranno altri, dopo domani ancora un altro. E poi ancora, 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 perché le idee di Chef Ferio sono veramente numerose, copiose, tutte da rubare. Bravo Chef! Grazie, ciao, un bacio a tutti.